Perisic, Juventus, le voci di calcio mercato che stanno infiammando in queste ore il mondo inter mentre siamo in attesa ovviamente dell'ultima giornata decisiva di questo campionato. Facciamo un punto della situazione oggi però sulla situazione Perisic andiamo a raccontarvi quelle che sono le ultime notizie che stanno circolando in queste ore e quelle soprattutto che abbiamo potuto verificare noi in prima persona su eh Passione Inter vediamo quindi qual è ad oggi la situazione su Ivan Perisic che lo ricordiamo è in scadenza di contratto al termine di questa stagione il prossimo trenta giugno e quindi può cambiare squadra a parametro zero. Amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter innanzitutto bene ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Abbiamo deciso di parlare di Ivan Perisic perché ce l'avete chiesto in tantissimi anche all'interno del club di Passione Inter è quindi chiaramente uno dei temi più caldi del momento in casa nell'Azzurra soprattutto dopo la notizia lanciata in queste ore dalla Gazzetta dello Sport. Vi condivido lo schermo dal sito di Gazzetta dove viene scritto Juve scatenata Tris Dassi addirittura per Allegri bloccati Pogba Perisic e Di Maria. Questo è il titolo dell'articolo che trovate sulla Gazzetta eh dentro l'articolo poi in realtà si ridimensiona un po' diciamo così la notizia si parla di basi di accordo soprattutto per quanto riguarda Perisic comunque è un'uscita molto forte della Gazzetta eh che però è bene ricordarlo anche un mese fa aveva lanciato a tutta pagina in prima pagina anche Rudiger alla Juventus a parametro zero. Noi quindi come al solito abbiamo deciso di fare le nostre verifiche come eh è doveroso fare sempre in questi casi e quindi voglio andare a dirvi quello che risulta ad oggi a noi per quanto riguarda Ivan Perisic e vi posso dire che anche dopo le ultime chiamate che abbiamo fatto in queste ore vi confermo sostanzialmente quello che ho già anticipato nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club ovvero ad oggi al contrario di quello che sostengono in molti al contrario di quello che dicono in molti a noi non risulta una rottura tra Perisic e l'Inter non risulta una certezza nell'addio di Perisic e l'Inter al termine di questa stagione anzi il futuro di Perisic deve ancora assolutamente decidersi. Questo è il punto di partenza fondamentale da sottolineare fin da subito. Come vi diciamo da oltre un mese ormai eh l'incontro tra l'Inter e il giocatore ed il suo entourage non è stato né eh rinviato né anticipato fin da subito sapevamo che eh era stato fissato per la fine della stagione quindi dopo la gara contro la Samp così è rimasto e non ci sono state novità da questo punto di vista quindi subito dopo l'ultima gara di questo campionato contro la Samp l'Inter e Perisic con il suo entourage si incontreranno per fare il punto della situazione sarà sicuramente una delle priorità assolute dell'Inter. Come ci si arriva a questo incontro almeno da quello che sappiamo noi. Le parole di Perisic dopo la finale di Coppa Italia lo ricorderete Perisic ha detto che non si arriva all'ultimo per rinnovare il contratto di un calciatore così importante eh hanno sapevano un po' di polemica ma da chi sta trattando vengono viste come eh non come una rottura ma come il giusto tentativo possiamo dire così da parte di un professionista di far valere le proprie ragioni e soprattutto di alzare le basi dell'ingaggio in sede di trattativa eh visto mi sembra abbastanza normale ecco visto la stagione che sta facendo che sta portando al termine soprattutto il momento in cui è arrivata quella dichiarazione ovvero dopo una finale decisa proprio da una sua doppietta portando quindi un altro trofeo nero azzurro. Quindi eh ad oggi come diciamo anche nel titolo dell'episodio di oggi per quello che sappiamo su passione inter l'Inter rimane la priorità per Ivan Perisic che vuole ancora ascoltare chiaramente la proposta dell'Inter un Perisic che però chiede un ingaggio importante con l'Inter quindi da questo punto di vista c'è una distanza eh sulle cifre io non so dirvi adesso in questo momento nel dettaglio quante migliaia o milioni di euro ballano eh tra domanda e offerta non una differenza incolmabile eh secondo quello che sappiamo noi non ho però il dettaglio preciso della cifra esatta eh che chiede Perisic e della cifra esatta che offre l'Inter però l'Inter una ha fatto una sua offerta tempo fa e poi l'ha anche ritoccata verso verso l'alto quindi un leggero rialzo soprattutto perché anche lo stesso Inzaghi ha dato un input importante all'Inter e si è espresso in maniera ovviamente favorevole rispetto ad una possibile permanenza di Perisic la sensazione che ho io oggi quindi è che eh l'Inter alla luce dell'importanza di Perisic abbia già fatto qualcosina in più a livello di offerta rispetto a quelli che erano i piani iniziali quindi vuole tenerlo e alzato la sua offerta però non vuole stravolgere la prima proposta che avevano in mente perché si rientra sempre all'interno di un contesto di sostenibilità che va tenuto a mente soprattutto per un calciatore che va per i trentaquattro anni e quindi non si vuole sforare un certo tetto e su questo tra poco ci torniamo sicuramente. Prima però veniamo anche al discorso Juventus che è forse quello che sta facendo discutere di più in questo momento eh anche qui abbiamo fatto le nostre ricerche abbiamo fatto le nostre verifiche soprattutto sulla sponda bianconera siamo andati a capire un po' quelle che sono le sensazioni che arrivano da Torino e dalla Juventus ebbene al momento da quello che abbiamo raccolto noi non ci risulta in realtà una trattativa avviata tra la Juventus e Perisic quindi voglio tranquillizzarvi un po' da questo punto di vista non ci risulta un accordo chiuso però che la Juventus sia interessata di Van Perisic è assolutamente vero d'altronde Perisic piace anche al tecnico Massimiliano Allegri già da diverse stagioni a questa parte eh soprattutto sappiamo bene che la Juventus sta lavorando molto sui profili a parametro zero e può permettersi degli ingaggi importanti anche più elevati di quelli che può offrire l'Inter in questo momento soprattutto la Juventus sta sta cercando dei rinforzi importanti di grande spessore proprio in quel ruolo lì nel ruolo dell'esterno offensivo da quello che sappiamo però ecco la Juventus non ha ad oggi affondato il colpo e eh si muoverà concretamente con un'offerta concreta messa nero su bianco eventualmente dopo l'incontro tra l'Inter e Perisic nel caso in cui dovesse arrivare quindi la rottura questa è la situazione le voci che escono in queste ore mi sembrano quindi almeno dal mio punto di vista un po' messe in giro anche per creare eh quel rumore attorno alla trattativa per il rinnovo con l'Inter un po' come casualmente tra molte virgolette le voci su Di Bala e Inter erano spuntate proprio a ridosso della finale di Coppa Italia eh in ogni caso da colleghi che seguono da vicino la Juventus eh mi hanno detto stamattina anche eh un ulteriore dettaglio importante molti dicono ma se la Juventus sta andando su Di Maria allora non può prendere anche Perisic in realtà dal mondo Juventus mi hanno detto che Di Maria comunque non escluderebbe anche eventualmente Perisic questo non lo so vigilo questa notizia eh che vi ho ricevuto così come l'ho eh ricevuta io eh oltre alla Juventus Perisic da quello che sappiamo non ha ricevuto altre offerte eh importanti o meglio ha ricevuto delle offerte anche economicamente importanti ma non da club di primissima fascia non da club che lottano per dei titoli e questo per Perisic è un dettaglio molto importante quindi ha respinto proposte che arrivano da club che non lottano per vincere dei titoli e questo durante tutta la sua carriera soprattutto in questa fase è un elemento fondamentale per questo motivo ribadiamo e vado verso la conclusione che all'incontro con l'Inter si arriva ancora con una sorta di ottimismo comunque con un fronte ancora aperto con l'Inter che rimane una priorità per Perisic e Perisic rimane una priorità per l'Inter ma moltissimo secondo me dipenderà dalle decisioni dalle scelte dello stesso calciatore e qui vi aggiungo anche un po' di mie considerazioni prima poi di leggere le vostre aspetto i vostri commenti qui sotto eh al nostro episodio di oggi mi raccomando con grande educazione voglio i vostri commenti mi raccomando eh penso comunque che siamo tutti d'accordo nel dire che oggi Perisic è il miglior giocatore dell'Inter all'interno della di questa stagione eh credo ci siano pochi dubbi a meno di rivaltoni clamorosi nel finale ma comunque Perisic ha fatto una stagione straordinaria ed è l'uomo in copertina di questa annata eh a questo aggiungo inoltre un altro dettaglio che secondo me non molti stanno considerando però eh si profilano in questa estate degli addi come quello di Kolarov di Vidal di Vesino forse di Alexis Sanchez perderemo molto probabilmente tanti calciatori che hanno una grande importanza nello spogliatoio forse ancora un'importanza superiore nello spogliatoio rispetto a quella che magari possono aver avuto eh in campo nei risultati ottenuti dall'Inter in questi ultimi due anni eh questa per me è una cosa molto sottovalutata eh i giocatori con questa grande esperienza però secondo me in un gruppo soprattutto che dovrà affrontare probabilmente un altro rinnovamento sono estremamente importanti quindi io dico se dovesse partire oltre a questi anche Ivan Perisic di giocatori di esperienza ne rimarrebbero veramente pochi Andanovic Dzeko e veramente poco altro allora io alle considerazioni tecniche doverose che si fanno su Ivan Perisic aggiungo anche una considerazione di spogliatoio dico cioè se Perisic viene visto dall'allenatore dai compagni e anche dalla dirigenza come un elemento valido a livello di leadership e positivo per il gruppo allora bisognerebbe far valere anche questa sulla bilancia dell'offerta e fare quindi anche uno sforzo ulteriore in sede di rinnovo e di trattativa. Dall'altra parte secondo me però ci sono anche altre considerazioni che vanno fatte e che ai miei occhi renderebbero tra virgolette comprensibile anche un possibile addio. Eh il presupposto più importante da cui parto io nelle mie considerazioni è che sono convinto che alla guida dell'Inter ci sia una grande dirigenza che ha dimostrato di meritare la nostra fiducia e credo che a differenza dell'anno scorso questa volta la dirigenza dell'Inter ha avuto molto più tempo per programmare le prossime mosse quindi non si farà trovare in preparata non dovrà agire all'ultimo minuto almeno questa è la speranza quindi se c'è da questo punto di vista un piano preciso da parte dell'Inter ed una strategia chiara sul mercato è giusto perseguirla a costo di dover fare delle scelte anche dolorose quindi in questo contesto l'Inter non può cedere a ricatti passatemi questa parola un po' forte però eh non può cedere a ricatti diciamo così tra virgolette e eh è giusto stabilire un tetto anche per un calciatore importante anche per questo Perisic che poi questo Perisic lo è diventato a trentatré anni compiuti di fatto per l'ultimo anno e mezzo e eh ed è un giocatore che oltre alle doti tecniche atletiche che non abbiamo mai discusso ha aggiunto delle motivazioni che prima eh diciamo avevamo visto un po' in maniera alternata che adesso si sono fatte più costanti eh ma casualmente possiamo dire a ridosso anche della scadenza del suo contratto quindi ci può essere anche la componente del voler mettersi ulteriormente in mostra a ridosso della scadenza del contratto da da considerare ecco anche questo sul tavolo sulla bilancia eh atleticamente sappiamo quindi benissimo che sarà un top sicuramente per la prossima ma probabilmente anche per i prossimi due anni le prossime tre stagioni ma le motivazioni saranno sempre così è un punto di domanda da vedere soprattutto poi aggiungo e chiudo davvero eh l'acquisto di Gosens secondo me è stata un'opportunità da accogliere sicuramente ma l'Inter si è anche cautelata in maniera importante in questo modo portandosi a casa un giocatore che il prossimo anno Gosens sicuramente chiederà molto più spazio rispetto a quello che ha avuto da gennaio ad oggi eh e per questo motivo io credo che l'Inter in questo modo potrebbe anche decidere di reinvestire i soldi che chiede Perisic su un giocatore più giovane che quindi potrebbe crescere alle spalle eh di Gosens e aumentare poi il suo valore eh quindi nell'immediato prendi un calciatore perdi un calciatore di grande valore ma con un Gosens pronto subito puoi permetterti di avere un giovane da far crescere un po' quello che è accaduto all'interno di questa stagione sulla destra con Darmian e Dunfis per farvi capire adesso ci ritroviamo una corsia destra di grande valore con giocatori che si sono ulteriormente valorizzati quindi tornando al discorso progettualità io mi auguro che a questo punto se non si troverà davvero la quadra con Ivan Perisic sia già pronto subito il sostituto più giovane per esempio un Parisi dell'Empoli può essere un nome da tenere d'occhio per fare giusto un nome eh questo vorrebbe dire aver fatto una programmazione aver programmato quindi ogni mossa e finché c'è programmazione io accetto le decisioni della dirigenza anche a costo di fare quindi qualche sacrificio poi se Perisic dovesse accettare invece la Juventus solo per cinquecentomila euro in più ecco non me la prenderei solo con il club che ha fatto quindi una scelta differente a livello di progettualità chiudo poi anche con un'ultimissima provocazione senza entrare troppo in discorsi più ampi di cessioni di mercato di quello che succederà la prossima estate eccetera eccetera se devo dare sei milioni e mezzo a Perisic in un ruolo dove sono già coperto con un grande calciatore come Gosens al livello progettuale forse avrebbe più senso provare a darli ad un Dybala che ha anche quattro anni di meno metto lì questa considerazione finale voglio sapere che cosa ne pensate anche voi quindi aspetto i vostri commenti e i vostri giudizi su questo tema mi raccomando se mi avete seguito fino a questo punto vi chiedo di farmelo sapere con le moci facciamo le moci del pollice alzato aspetto la vostra moci del pollice alzato nei commenti prima di salutarvi vi ricordo che ci rivediamo in diretta alle 19 e 30 dobbiamo parlare di tante cose ci sono altre voci di mercato molto importanti dobbiamo avvicinarci ad inter samp e non solo quindi vi aspetto in diretta e vi ricordo passione inter punto club siamo in contatto 24 ore su 24 sette giorni su sette all'interno del club di passione inter dove abbiamo avuto nelle scorse ore una lunga chiacchierata con tutta la community dove stiamo per lanciare delle grandi novità quindi vi lascio in descrizione anche il link a passione inter punto club per entrare a far parte del nostro grande club interista online dove interagire con noi 24 ore su 24 e dove come detto vi anticipiamo anche tante notizie e tante informazioni mi raccomando vi aspetto nella nostra splendida community e ci rivediamo in diretta alle 19 e 30 ciao a tutti Grazie a tutti.